Ciao ragazzi e bentornati, adesso sta saltando anche questo, non ci credo neanche Dazon ragazzi, dobbiamo parlare di questo, intanto l'Atalanta è appena passata in vantaggio contro il Toro 2-1, è finita la partita tra Empoli e Lazio, risultato di 3-1 per la Lazio Dobbiamo parlare di Dazon, perché io insomma su Instagram ho messo una storia Dove dicevo raccontatemi ragazzi le vostre opinioni su Dazon Alcuni mi hanno scritto, vedo bene, vedo male, quindi il problema può essere legato alle schede di rete dei singoli televisori Ora io con tutto il rispetto, ho il modem sotto la tv, ho l'iperfibra 1000 perché carico i video, boom Così in pochi secondi e su, io non riesco a capire, non riesco veramente a capire Come possa un servizio simile avere problemi di buffering Non riesco a capire, non riesco a capire Praticamente è paradossalmente ragazzi, è meglio avere una Playstation dove scaricate l'app di Dazon e la guardate da là E quindi bypassate con un'altra cosa, con un altro strumento Ho la Fire Stick di Amazon, non comprate quella a geggio di Dazon perché è un'inculata pazzesca 130€, vi conviene direttamente prendere il Fire Stick con 50€ e vi portate Dazon in 4K Se avete una connessione discreta e decente Io ho una connessione, ripeto, al massimo della potenza Però, insomma, ho avuto problemi La Smart TV si bloccava, crashava la tv Oh, ma non sono cose normali Questa roba non va assolutamente bene Anche perché adesso è cambiato l'abbonamento di Dazon Non costa più 9€ il 99€ Ma si sticazzi, una partita non si vede bene No, anche perché un problema di una partita Va a inificiare direttamente sulle altre Perché ovviamente quel problema di connessione Non è che è per una partita e basta Prende un pochettino tutta la piattaforma E tante partite, magari con che hanno un'audience bella enorme Per cui bisogna investire tanto in infrastruttura Lo sapevamo dall'inizio Prendano esempio da Prime Che ha fatto un servizio eccezionale per la Supercoppa Europea Un servizio veramente a regola d'arte Prendano quel know-how, prendano quell'infrastruttura La utilizzino, la noleggino in attesa di svilupparne una loro Proprietaria Perché così non andiamo da nessuna parte Non lo so Che facciano qualcosa però Li vedo completamente in bambola Anzi Vi faccio vedere cosa hanno scritto Direttamente su Il loro comunicato Insomma legato alle performance Dazon replica della mentele La piattaforma non ha mai avuto un down E sta funzionando correttamente All'inizio delle partite del pomeriggio c'è stato un picco di tre minuti Su una CDN globale Il traffico è poi stato suddiviso su altre CDN E' tutto ripreso correttamente Ma se andate a vedere direttamente i commenti sotto questo post E' pieno di insulti E' pieno di insulti Se da son fosse il ristorante il piatto fa schifo Impossibile Ci abbiamo spuntato solo un paio di volte Qualcuno Mi risponde come battuta Ragazzi non va bene Non va bene Io sono pro questo tipo di tecnologia Ma che vada sviluppata in un certo modo In modo certosino Cioè non posso star qui a bestemmiare Cioè se mi succede un'azione di buffering Un'azione figa della Juventus C'è il buffering in mezzo Io butto tutto giù per aria Poi chiede il risalecimento ad Azon Ragazzi non è possibile Io quel computer bene o male l'ho vista Anche io la partita della Juve Cioè se proprio fa schifo in tv Ma non va bene Mi state obbligando a vederla su device Che non sono comodi O sul telefono che vuoi vedere i giocatori così Va bene il telefono se sono fuori a cena Ma a parte che quando c'è la Juve Non sono fuori a cena Perché quando c'è la Juve Per me è rosso nel calendario praticamente Per cui non mi muovo minimamente Ma non è possibile Non è possibile Io faccio questo video di Lamentela Per dar voce ai vostri problemi Io voglio però che mi diciate Sotto voi come avete vissuto La serie A Su Dazon Non so se domani Si vedrà su Sky Questa partita Si capisce ancora un caso Non ho capito nulla ancora Dei diritti tv Io sia Dazon sia Sky Ho Prime Quindi dovrei vedere tutto In questo modo Non ditemi se ti conviene fare altro Lo so ragazzi Però ahimè pago la penale Se ne scopro da Sky Ma poi Sky va bene Che anche dell'intrattenimento Per la signora Che ogni tanto guarda La serie tv Altre cose Non sto qui A star lì Sui 20 euro in più Che spendo su Sky Pazienza L'unica cosa Che voglio capire E se Domani c'è anche su Sky La Juve Se c'è su Sky La guarderò su Sky Me ne fotto altamente Di guardare da su Dazon Perché non vorrei Avere brutte sorprese Aspetto i vostri commenti sotto Nel frattempo ragazzi Che vi dico L'Atalanta ha sculato Con un gol di piccoli Nel finale Alla portata a casa Perché la partita È finita Per un toro un po' più Già migliorato Con la guida di Juric Sono sicuro che Magari quest'anno Farà un po' di fatica Però l'anno prossimo Potrebbe entrare A pieno regime Come squadra Super fastidiosa Per la Juventus Anche Non perché ci insidi A livello di classifica Ma più che altro Perché le squadre di Juric A noi ci hanno dato sempre Un po' di fastidio Nell'affrontarle L'Atalanta Insomma È partita così così E l'ha portata a casa Sul finale L'ha sculata E niente ragazzi Questo è tutto Per questa prima giornata Di campionato Qualche problemino Quella più che altro Di natura tecnica Mi auguro che domani La Juventus Si veda da Dio Detto questo ragazzi Io vi auguro Una buona notte Grazie per avermi ascoltato Fin qua Iscrivetevi al canale Mi raccomando Likeate Likeate Tanti like E sempre Fino alla fine Forza Juve ragazzi